Siamo con Carlo Alberto De Casa, analista di ActiveTrade. Carlo Alberto, nelle ultime settimane si è notato come sui mercati siano uscite diversi catalizzatori molto importanti. Penso all'incremento del tapering da parte della banca centrale americana, piuttosto che alle tensioni che interessano l'Ucraina, la Russia e comunque anche il blocco europeo ed americano. A tuo avviso, qual è il catalizzatore di maggior interesse in questa fase per i mercati finanziari? Senz'altro l'uolo della politica monetaria americana è ancora predominante, quindi l'intervento della Yellen nelle settimane passate ha aumentato il tapering e uno dei temi centrali sui mercati. Però questa serie di focolari di tensione, stiamo parlando senza altro della questione in Crimea, l'Ucraina e anche la Turchia che non riesce ancora a trovare una quadra politica europeista, ma anche le ultime elezioni hanno sancito un successo di Erdogan. Quindi i temi sui mercati sono parecchi e per gli operatori bisogna cercare di riuscire a mettere insieme un puzzle estremamente complesso. Parlando invece nello specifico di materie prime e di valute, quali sono da qui alle prossime settimane le prospettive o comunque le tue attese per quanto riguarda l'andamento dell'oro e della sterlina? Solitamente quando ci sono momenti di tensione, di rischi sistemici, l'oro è uno dei principali beni rifugio, il beni rifugio per eccellenza. In questo caso invece nelle ultime settimane, dopo un avvio d'anno scoppiettante con un più 15% da inizio gennaio a inizio marzo, l'oro è tornato nuovamente intorno a 1300 dollari l'oncia, quindi ha perso circa 100 dollari indebolendosi. Le ragioni sono molteplici anche dovute alla politica monetaria americana e in un'ottica di più lungo periodo, dal 2014 probabilmente sarà ancora un anno difficile per le materie prime, mentre dal 2015 in poi, dopo il calo del 2013, forse avremo uno scenario migliore. Per quanto riguarda la sterlina, invece l'incognita principale è legata alle elezioni per la separazione della Scozia dall'Unito che si terranno a settembre. Parlando invece nello specifico dell'offerta di ActiveTrades, quali sono le offerte nuove, le novità pensate per i trader? ActiveTrades si muove per ampliare la gamma di prodotti offerti per divenire un broker sempre più globale, pertanto abbiamo da poco lanciato le azioni sul DAX30 tramite CFD, quindi i principali titoli del paniere tedesco, ma anche la possibilità di negoziare il rublo, la valuta russa che ha perso più del 10%, si è depreciata da inizio anno nei confronti del dollaro e dell'euro e quindi è stata molto richiesta dai nostri trader. Nel frattempo abbiamo lanciato anche la valuta cinese, anche essa ha avuto un buon successo per via dell'andamento, per dell'interesse crescente su questa potenza mondiale. Al tempo stesso abbiamo offerto anche nuove monete come quella ungherese, piuttosto che quella messicana e in ultima settimana quella della Polonia. Sostanzialmente il trend generale è quello di un ampliamento dell'offerta sia per quanto riguarda le azioni ma anche per i panieri di indici, l'ultimo arrivato è quello delle azioni indiane.